Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Last Team Standing Come vedete siamo due squadre, elefanto arancioni contro quelle blu La mia squadra, siccome giochiamo in dispari, è chiaramente quella con meno giocatori Perché il gioco ci vuole male Vediamo di spingere questo giù Tu hai la potenza No, in due! Perfetti Vai avanti, fatevi sotto, siamo caduti? Scendi giù Perfetto ragazzi, facciamo a pigne Vai così, vieni qua maledetto, dove scappi? Ti ammazzo Vai così, che mi hai buttato di sotto te Vai con lag Dai avanti Oh, con lag E schiva, uno e due Bistard No Caracca, dai personaggio malefico Dai Perfetto, come vedete c'è un mio compagno di scuola Squadra qui Che è rimasto l'unico Lì E abbiamo vinto ragazzi E' il primo round portato a casa Secondo round Questa volta siamo con le macchine blu Vai vai, io vi faccio andare avanti Ma se io rimango qua Perché devo scendere? Scusate un attimo Ok, chi è il deathmatch? Però se uno rimane qua Ha vinto Perché tutti si massacrano E nessuno qua riesce a uccidermi A parte i compagni di squadra E vado a vincere Siamo 4 contro 6 Dai però Andiamo a fare un bellissimo deathmatch Cioè un deathmatch Un last team standing Lanciamo giù macchine Perfetto Uno è già sceso Vai così Buttiamo Buttiamo giù tutte queste altre macchine qui Vai così Perfetto Quella anche Cade giù da basso Vai così Contro l'arancione Sì Dai Buttala No Cavolo per un pelo Vai vai Compagno di squadra Buttalo di sotto Ah sì È caduto di sotto Sì Perfetto Adesso Uno di noi Deve rimanere qua Io mi butto di sotto E vado a ucciderli a pugni Ragazzi Attenzione Attenzione Perfetto Mi serve però Questa volta Eccoci qua No 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 Quella ha un'arma Dove ha trovato la pistola Ok Come non detto E abbiamo vinto Vincitori Anche qua 2 a 0 Terzo E round Finale Siamo Siamo in 4 Almeno Sì Io non voglio scendere Ma dove vai Ma dove vanno tutti Tutti scendono Guarda quello a terra Guarda quello a terra Sì Sì Schiacciato Ucciso No Guarda che si massacrano tutti Ma c'è qualcuno Qua sopra Dei miei ancora Vai così Dove vai Vai di sotto Vai di sotto Si è suicidato uno No In due No in due Dai che la mia fanto È più forte Guarda Ne spingo Due ragazzi Ne ho spinti Con la fanto Perché quello è caduto Quello è caduto Giù dalla macchina Perfetto Dai scendi Vieni qua Maledetto Bastardo Questo lo massacro Io ragazzi Dai così Sì Avanti così E abbiamo vinto 3 round Vinti di seguito Ed eravamo anche In inferiorità numerica Go back to the action Ma se li abbiamo uccisi tutti E di fatti Vincitore Quindi questo Last team standing Si conclude qua Con una vittoria Schiacciante 3-0 In inferiorità numerica Anche eravamo Mi sono veramente divertito Non è durato moltissimo Ma secondo me ragazzi Questi video qui Sono belli intensi Cioè a me piacciono Se sapete altri Last team standing Ditemi i nomi sotto Appunto nei commenti Che poi andrò ad aggiungerli E li farò Qua insieme a voi Così ci divertiremo Tutti quanti assieme Io vi ringrazio per la visione E alla prossima Ciao 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 Ciao